Esclusa la pista terrorismo nell'attentato di questa mattina nel liceo Tocqueville di Grasse, nel sud della Francia, otto i feriti lievi dopo che uno studente di 17 anni ha sparato all'interno della scuola per una lite con il preside, anche lui colpito nella sparatoria. Il giovane figlio di un consigliere comunale è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine. Nel liceo è stato anche rinvenuto, un ordigno esplosivo successivamente disinnescato. Poco prima che emergessero elementi in base ai quali è stato escluso un attacco terroristico, il governo francese ha fatto scattare il piano allerta attentati, diramando la notifica del Ministero dell'Interno tramite smartphone.